Protesta senza fine in Bulgaria. Per il 43esimo giorno consecutivo a migliaia sono scesi in piazza contro il governo di Plame-Norrescharski. I manifestanti definiscono l'esecutivo corrotto e dominato da torbi di interessi commerciali. Altro motivo di protesta, la pausa estiva del Parlamento. Il voto è stato posticipato di una settimana. Il Parlamento non dovrebbe andare in ferie, dovrebbe approvare le riforme elettorali e stabilire una data per le nuove elezioni. Nessuno va in ferie dopo due mesi di lavoro. Il governo Orescharski, che raccoglie poche simpatie, è entrato in vigore a fine maggio dopo il flop del partito di centrodestra Gerb nel formare una coalizione. Orescharski ha bisogno dell'appoggio del discusso partito nazionalista Attac per far approvare le proprie riforme. E secondo gli esperti, nuove consultazioni non porterebbero oggi a un panorama politico meno complesso.